Ciao Simone, oggi lo sai che giorno è? No. 14. Ti dice niente? Eh, lo scudetto. Eh. È un giorno particolare e storico, però come ho detto quella cosa sarà... Però è stata una partita diciamo un po' epica, così come è successo in quella partita lì allo Stadio Olimpico, aspettando il Perugia eccetera eccetera. Cioè, tu riesci a pensarci a una parola del genere oppure... Sì, quello è normale, ci penso tante volte, come penserò tante volte agli ultimi 30 secondi. Insomma, la partita era già finita da 30 secondi, era giusto recuperarla e insomma prendere un rigore al 95esimo e 50 con la VAR. Bisognava avere sangue freddo, ce l'abbiamo avuto tutti quanti, sia io, il mio splendido staff, tutti i miei giocatori che erano in panchina e i ragazzi in campo perché probabilmente era difficile da digerire un 2-2 a tempo scaduto. Però questo è il calcio, regala grandi emozioni. Si può sognare in grande secondo te, visto il 14? Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, tranquilli, sereni e continuare a lavorare in questo modo. Poi insomma vedremo quello che capiterà, noi siamo stati bravissimi, ci regaliamo questa grandissima soddisfazione.